benvenuti nel canale dove si analizzano a fondo le copertine come in questo caso physical graffiti 1975 led zeppelin venite con me dunque ragazzi come ben sapete abbiamo analizzato copertine ci siamo addentrati dentro a dei capolavori come quello dell'altra volta che vi lascio qui sopra molto molto interessante sempre delle zeppelin però fatto in quel caso da storm torgson quel gran genio della hypnosis dello studio hypnosis ovvero intro di outdoor puntata che ha spopolato letteralmente perché ci siamo addentrati dentro le sei versioni di quella copertina allucinante in questo caso non c'è più storm torgson che si si occupa della parte grafica ma abbiamo physical graffiti che esce nel 1975 quindi due anni dopo houses of the holy che era del 73 e questa volta la copertina è opera dello studio album graphics di mike dowd quindi abbiamo un'altra copertina molto interessante da andare ad analizzare ma prima di tutto facciamo una piccola apriamo una piccola parentesi per questo doppio allucinante physical graffiti che esce appunto dopo un periodo di fermo della band perché la band dal 69 al 71 72 inizia a sfornare dischi uno dopo l'altro dalle zeppelin 1 alle zeppelin 4 raggiungono il loro apice di successo dopodiché nel 73 viene houses of the holy e poi nel 75 physical graffiti con un doppio un doppio che contiene pezzi stratosferici come in my time of dining che è un pezzaccio blues gospel classico rimaneggiato alla maniera dei led zeppelin quindi con il tiro potentissimo di bonham e poi ci stanno pezzi tipo cashmere ecco per esempio cashmere mi viene in mente stavo proprio guardando appunto questo video che vi lascio qui sotto dove voglio sempre i vostri commenti a riguardo dei miei video così possiamo interagire e portare avanti insieme questa passione che ci unisce la passione per la musica con la m maiuscola dicevo jimmy page in questo video si destreggia con la chitarra e cerca di spiegare gli accordi che ha utilizzato e come nasce cashmere a due alunni che non so altro che edge il chitarrista degli u2 e jack white degli white strips che lo guardano come se fosse un idolo è bellissima quella scena perché lo guardano a bocca aperta mentre lui tada 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 e quindi cercano di capire che accordi utilizza e come porta avanti questo riff leggendario comunque detto questo insomma pezzi comunque potenti si sente ancora il rimbombo il suono dei led zeppelin è diverso dal solito provate ad ascoltare in cuffia pezzi come appunto cashmere oppure in my time of dying quando quando entra bonham con la batteria ti trema proprio l'anima bom pezzi di sonorità pazzesche oltre alla loro bravura e a la bellezza del pezzo stesso ma anche il suono perché il suono perché jimmy page non solo era un grandissimo chitarrista virtuoso talentuoso ma era anche un orecchio assoluto perché lui il suono lo intendeva come se fosse una materia qualcosa che doveva essere ripresa non solo da una parte ma da più parti ambientale quasi no infatti nelle registrazioni studio jimmy page utilizzava delle tecniche tutte sue se le inventava di ogni metteva microfoni ovunque perché il suono non doveva essere ripreso solo da una parte ma appunto ti doveva circondare infatti quando ascoltiamo un disco delle zeppelin e soprattutto se lo andiamo a ascoltare in cuffie ci rendiamo conto della sonorità a 360 gradi tant'è vero che la prima volta quando fecero il primo disco quando uscì proprio le zeppelin 1 nel 1969 questo robert plant questo ragazzino che veniva da birmingham anche lui birming birmingham poi ci ha donato tantissimo basta vedere oggi osborne e i suoi black sabbath che vengono appunto da birmingham quindi una cittadina la cittadina metallurgica come la l'ho sempre chiamata io che ci ha donato il metal in quel caso dei black sabbath ma anche in questo caso ci ha donato robert plant e robert plant dichiara nel suo primo disco nel primo disco del zeppelin quando sente queste sonorità in studio che è addirittura un suono sessuale che prova addirittura piacere orgasmo per questa sonorità così potente così corposa che jimmy page è riuscito a incidere su quei dischi che tuttora a distanza di più di mezzo secolo noi ci portiamo nel cuore e sui nostri giardischi comunque chiusa la parentesi per quanto riguarda il disco in sé che sappiamo tutti che è bellissimo è una bomba andiamo ad analizzare nel dettaglio quest'altra simpaticissima copertina molto molto particolare come l'altra volta abbiamo già analizzato per bene le zeppelin 3 anche vi lascio anche quella molto carina houses of di oli e adesso vediamo questa questa praticamente raffigura un palazzo che esiste veramente questo palazzo si trova a new york nell'east village e in particolare lo andremo pure a vedere fisicamente visto che ci sono le possibilità oggi come oggi con google maps al 96 98 numero civico di san mark street appunto nell'east village di new york il palazzo è questo frontale sul retro della copertina c'è lo stesso palazzo però ripreso in notturna che succede qui vediamo poi vi manderò le foto sulla slide così ci capiamo meglio mentre parlo vediamo la scritta physical graffiti che si va a creare qui dentro le finestrelle finestrelle che sono hanno una fustellatura cioè sono vuote sono bucate perché se noi andiamo a togliere tutto quello che c'è dentro le finestre rimangono vuote con questo cartoncino bianco che ha davanti va a formare la scritta del titolo del disco e sul retro magicamente vediamo tutte le finestre chiuse con queste tende bianche ok e fin qui ci siamo la particolarità è che è un doppio però non è un gatefold quindi non si apre ma è tutto all'interno della sleeve come se fosse una unica sleeve allora andiamo a vedere dentro cosa c'è per farvi capire per chi ovviamente non ce l'ha e quindi non può constatare con mano come vedete ci sono i forellini qui quindi le finestrelle sono vuote quindi che significa che tutto ciò che ci andiamo a mettere dentro va a creare delle nuove immagini i due dischi quindi le due inner sleeve sono dentro a questo cartoncino quindi ci sta uno e due il cartoncino da questa parte ci dà il nome del disco physical graffiti dall'altra parte ci sono le tende chiuse che vanno a chiudere nella notte il retro della copertina se andiamo a togliere il cartoncino bianco troviamo le due inner sleeve dei due dischi che hanno ognuna di loro diverse fotografie e ognuna di queste fotografie se le andiamo a mettere dentro vanno in corrispondenza delle finestre ecco per esempio facciamo una prova allora mettiamoci dentro questa per esempio e come per magia troviamo in corrispondenza delle finestre diverse fotografie allora nel post di facebook che ho fatto per coinvolgere gli amici appunto che mi seguono ogni giorno dove metto appunto sulla mia pagina gli articoli quotidiani relativi a un disco qualcuno così accodato e nei commenti mi ha iniziato a far capire di cosa di quali fotografie si trattasse perché ci sono diverse opere d'arte diverse citazioni a cinema e ci sono anche i membri della me della band ovviamente qui vediamo jimmy page e john paul jones qui c'è john bonham però qui per esempio c'è una donna e questo è un quadro ed è un quadro precisamente che si intitola persefone o prosperina ed è dell'artista dante gabriel rossetti risalente al 1874 si trova proprio sotto al gatto qui qui c'è il viso di un gatto quindi qui abbiamo persefone qui john bonham qui sotto abbiamo per esempio la donna con l'ermellino di leonardo da vinci altro dipinto risalente alla seconda metà del 1400 del nostro leonardo da vinci ci sono tantissimi riferimenti a opere d'arte e a quant'altro per esempio su quest'altro disco abbiamo l'itz taylor l'itz taylor nel film mitico cleopatra quindi un frame di quel film e poi ci sono tantissimi altri personaggi qui c'è il dirigibile simbolo dei zeppelin che sta cadendo a picco qui c'è plant e bonham qui c'è una donna sopra un alligatore anche questa è una foto di tanti anni fa di primi del novecento suppongo quindi c'è tantissima roba ci sono riferimenti ai reali quindi questa è la regina sul trono mentre da un'altra parte avevo visto il re sul trono quindi comunque tantissimi tantissimi riferimenti che ovviamente non sono riuscito a scovare tutto e chiedo a voi l'aiuto per poter capire qualcosa in più ecco qui per esempio abbiamo il re sul trono questo invece è lì harway oswald sapete tutti chi è quindi ci sono diverse foto che ci fanno insomma una panoramica sull'arte in genere sia quella moderna ecco per esempio qui magari questa signora vicino a questa penso sia una lavastoviglie quindi una pubblicità dell'epoca insomma tanta tanta roba ancora una volta una copertina davvero interessante da analizzare insieme a voi è un disco sicuramente immenso che ci piace tantissimo quindi ragazzi se avete qualche notizia in più a riguardo di queste immagini sicuramente potete scrivermelo qua sotto nei commenti possiamo ampliare la nostra conoscenza musicale come sempre vi invito a iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto vi invito a seguirmi anche su facebook a questo punto perché lì possiamo magari interagire quotidianamente perché cerco sempre di mettere articoli di fare articoletti a riguardo del disco in questione e adesso andiamo con google maps a vedere e togliamoci questa curiosità in che condizione è ancora questo palazzo al 96 98 di san mark street nell'east village a new york dopodiché ci salutiamo ed eccolo qua abbiamo digitato 96 san mark a new york nell'east village e guardate un po qua eccolo qui il nostro palazzone ecco qui sulla sinistra c'è la porta rossa e diventa l'hanno pitturata di rosso però è lui è lui il palazzo con queste scale che sono qui antincendio quelle esterne tipiche che si utilizzano in america ed eccolo qua il nostro palazzo con addirittura c'è anche vedete qui questo questo bocchettone idrante qui che vediamo anche nell'altro addirittura ci sono i bidoni dell'immondizia ne sono quattro così come sono raffigurati nella della copertina qualcuno ho seduto sulle scalette c'è però qui ce n'è uno che sulle scalette di destra che sta parlando al telefono mentre prima sulla copertina ce n'era uno sulle scale di sinistra che ovviamente non poteva parlare al telefono perché negli anni 70 non esistevano ancora questi diabolici marchigegni qui ovviamente vediamo che sono state installate le macchine dell'aria climatizzata qui comunque un grande piacere poterlo vedere dal vivo magari andare lì a new york farsi una passeggiata sicuramente per me sarebbe una tappa da visitare sicuramente un diventerebbe sicuramente di interesse culturale e da scattare sicuramente una foto lì davanti magari col disco in mano ecco se vado a new york mi porto il disco e mi faccio un selfie davanti a questo palazzo al numero 96 98 di san mark street perfetto ragazzi mi ha fatto tantissimo piacere andare a new york insieme a voi e scovare il palazzo di physical graffiti dunque sicuramente una copertina interessantissima ed è una copertina personalizzabile quindi come abbiamo visto già con la rotella che girava in le zeppelin 3 anche qui si può modificare andando a cambiare il verso delle inner sleeve andando a far corrispondere le varie figure sulle rispettive finestre anche questa l'abbiamo vista insieme molto molto interessante physical graffiti le zeppelin 1975 discone che tutti conoscono chi non lo conosce lo andasse ad ascoltare ascoltatelo in cuffia vi renderete conto della potenza delle zeppelin anche per oggi è tutto vi ringrazio per avermi seguito mi raccomando iscrivetevi al canale fate girare condividete questi video perché il canale deve crescere perché vuole portare il verbo della buona musica della musica con la m maiuscola in giro un po dappertutto e far conoscere questi grupponi dell'epoca anche a chi magari ancora oggi non li conosce li ha solo sentiti dire dobbiamo inculcare sulle nuove generazioni dobbiamo spingere perché la cultura della buona musica deve proseguire per sempre un grande saluto da domenico vasile ci vediamo alla prossima ciao ragazzi ciao 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 ciao